il modo con cui si forma il consenso scientifico è un modo molto complicato che passa nei meandri delle comunità e non è qualcosa di diretto il processo scientifico è qualcosa di comunitario a tutto tono soggettivo da questo complicato processo che la costruzione del consenso scientifico soggettivo ribollente di opinioni di discussioni alla fine emerga quella che è la nostra migliore interpretazione della realtà che è la scelta e se qualcuno vuole scoprire più in dettaglio come avviene questo è il video per lui supponiamo che voi abbiate una ricerca scientifica fatta voi avete la vostra formula che ci dice come fare i frullati in modo ottimale frullati più buoni dell'universo c'è una regola matematica e allora avete la vostra formula del quantitativo del rapporto fa frutta latte ghiaccio che cavolo ne so con cosa li fate i frullati e questi sono sicuramente i buoni dell'universo quindi volete sottoporre all'interesse della comunità scientifica perché ritenete che questa formula di frullato sia qualcosa di generale e qualcosa che tutti devono sapere benissimo allora cosa dovete fare dovete scrivere i vostri risultati in un articolo in un quello legga di capire o andare a capire dove approfondire quello che avete fatto per riprodurlo dall'inizio alla fine quindi voi dovete riferire al materiale bibliografico su cui vi siete basati per svolgere la vostra ricerca sul frullato e dovete andare a investigare quali siano le conoscenze della comunità scientifica in modo che quando leggono il vostro articolo sul frullato voi potete rimandarli a delle considerazioni bibliografiche che gli aiutino a decifrare il vostro scritto e all'interno del vostro scritto dovete scrivere la vostra formula sul magica del frullato come ci siete arrivati e permettere quindi a qualunque altro scienziato di andare in cucina mettere frutta latte quello che volete e fare il frullato e verificare che questo sia effettivamente il frullato più buono e che rispetti le vostre considerazioni scientifiche e che il tutto sia fatto a regola d'arte e in questo articolo in cui cercate di costruire il vostro argomento e spingere la importanza della vostra ricerca all'interno della comunità scientifica assieme al fatto che la comunità scientifica deve essere in grado di riprodurlo e riprodurre ogni elemento all'interno del vostro scritto quindi ogni equazione che deve che all'interno del vostro scritto deve essere o provenire da delle della della bibliografia nota o comunque contenere al suo interno tutte le caratteristiche che permettano di dedurla e di capire che cosa che cosa tratti e quindi tutte le tabelle devono avere dei numeri che si sa da dove vengono potrebbe essere che avete il vostro data set di frullati e non volete condividerlo con nessuno al mondo ma se uno scienziato ve lo chiede e voi avete pubblicato la ricerca voi dovete condividere i dati che provengono da questa ricerca ovviamente entro i limiti del fattibile praticamente però questo è un requisito delle della della pubblicazione scientifica i dati devono essere a disposizione possono essere ad accesso privato quindi voi li avete voi li tenete stretti e li diffondete solo ed esclusivamente a quegli scienziati che li chiedono direttamente così avete un po il controllo di chi sta avendo l'accesso ai vostri dati sta chiedendo l'accesso ai vostri dati però è veramente un requisito questo nell'inquadramento della ricerca europea ogni ricerca deve essere riproducibile e ogni data set deve essere accessibile con dovute considerazioni in pratiche ad esempio il data set deve essere accessibile entro dieci anni dalla pubblicazione quindi dopo dieci anni voi dovete fare un backup che salva i vostri dati per dieci anni dopo questi dieci anni vi organizzate insomma a un certo punto uno non pretenda che voi fate un backup secula seculorum dei vostri dati e si spera che le competenze scientifiche abbiano accumulato a seguire dalla vostra pubblicazione e abbiano reso possibile il riprodurre dei vostri risultati o lo smentire dei vostri risultati in modo semplice senza avere accesso al vostro specifico data set quindi questo è il requisito di una pubblicazione scientifica a questo punto voi avete scritto un bellissimo articolo che fa il punto della situazione e pone in avanti il vostro le vostre conclusioni e lo dovete inviare a una rivista scientifica ci sono una miriade di riviste scientifiche e a seconda del tipo di risultato che avete quanto volete esporlo a una comunità più ampia o più specialistica lo invierete a riviste diverse esistono riviste come nature dove o science che raccolgono i risultati più o meno da tutte le discipline in teoria hanno lo scopo di raccogliere il meglio del meglio in un certo senso non è proprio così secco ma in un certo qual modo è così quindi se avete un risultato scientifico che voi ritenete valga la pena conoscere da parte di tutti gli scienziati dai fisici ai biologi ai chimici allora lo inviate su nature e anche lì a seconda del tipo di risultato di come è scritto eccetera sarà più o meno conosciuto ad esempio la scoperta del dna è qualcosa che riguarda tutti noi non è solo qualcosa di specifico che riguarda la cristallografia raggi x che è l'ambito dove la scoperta del dna è stato fatto quindi andando su nature si informano tutti gli scienziati che questa molecola è importantissima all'interno di ogni forma vivente è fatta così e tutti devono sapere come è fatto il dna i fisici i biologi i chimici gli astronomi chiunque deve saperlo perché è una cosa così fondamentale così importante che tutti ne devono avere accesso e ogni tanto nella carriera di uno scienziato se lo scienziato è particolarmente bravo riesce a esporre un risultato a una platea così ampia di scienziati un risultato che si ritiene che tutti o una grande parte degli scienziati debbano sapere a volte invece il risultato è più specifico a una certa è una certa nicchia e volete che proprio tutti 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 i studiosi di quella nicchia specifica leggiano il vostro risultato quindi se il vostro articolo sui frullati anziché fare il punto su qualcosa di importanza universale fa un punto specifico per gli appassionati di frullati magari c'è una rivista di frullati a cui voi potete mandarlo e così che tutti gli scienziati che studiano frullati leggono quell'articolo lo capiscono appieno possono addentrarsi molto all'interno della vostra metodologia dei vostri metodi e confrontarlo con lo stato dell'arte del del campo dei frullati quindi questa è una prima scelta che bisogna compiere il tipo di outlet scientifico di rivista scientifica a cui indirizzare la propria scrittura e la propria ricerca in secondo luogo una volta che la rivista scientifica riceve questo questo il vostro scritto quello che dovrà fare sarà verificare che il vostro scritto abbia un senso a questo punto c'è una persona una persona singola spesso che è l'editore scientifico membro del comitato editoriale ogni rivista ha il suo nome e l'editore quello che fa è leggere l'articolo vostro l'editore è un esperto del campo io ad esempio sono editore di una rivista che si chiama proceedings of the royal society a che è una rivista piuttosto ampia molto storica a proposito di un po fisica ingegneria matematica ha un argomento molto ampio quindi chi invia lì è perché ritiene che il proprio scritto possa interessare a una serie di studiosi che occupano i campi della fisica della matematica dell'ingegneria a seconda del loro approccio quindi è qualcosa di importante abbastanza importante e io sono l'esperto per quanto riguarda la fisica nucleare e alcuni tipi di fisica teorica e quando un articolo di fisica nucleare viene inviato a questa rivista allora il comitato il capo del comitato editoriale l'editore in chief o i suoi aiutanti lo inviano all'opportuno editore membro del comitato editoriale quindi mettiamo me io leggo questa ricerca a proposito della fisica nucleare io seguo la fisica nucleare so qual è lo stato dell'arte che cosa sta succedendo quali sono i trend e quindi una volta che leggo questo articolo mi faccio un'idea se questo articolo possa essere interessante sia per la platea che legge questa rivista da un lato e per la fisica nucleare dall'altro lato che sia qualcosa che sia lo stato dell'arte che non usi metodi sconfessati che non che sia valevole di una pubblicazione anzi non della pubblicazione non ancora perché prima della pubblicazione a questo punto io che conosco un po la comunità in fisica nucleare mi guardo attorno dico ok questo articolo riguarda questo specifico aspetto della fisica nucleare e questo specifico aspetto ci sono tizio caio sempronio che sono molto esperti a proposito di questo specifico aspetto allora io lo invio a loro che faranno gli arbitri referi in inglese di questo articolo quindi il loro compito è leggerlo con cura e capire nel dettaglio quanto le opinioni e le conclusioni le premesse di questo articolo siano compatibili con lo stato dell'arte nella ricerca in fisica nucleare questo articolo suppone una certa caratteristica del nucleo suppone che il nucleo sia fatto di protoni e neutroni il nucleo è fatto di protoni e neutroni sì per quanto ne sappiamo sì allora il nucleo andando avanti utilizzando questa supposizione riflette quello che è lo stato dell'arte a proposito del nucleo atomico e quindi vale la pena il nucleo l'articolo utilizza queste altre ipotesi sono sono vere sono false come sono considerate oggigiorno queste ipotesi e così via poi ne fa una disamina della dell'articolo questo questo articolo poi costruisce questo modello questo modello quali pro e quali contro a e valuta l'articolo e valuta la scientificità di questo articolo cioè valuta quanto questo articolo è razionale segue lo stato dell'arte della ricerca in fisica nucleare e propone qualcosa di nuovo qualcosa che è bene considerare qualcosa che la gente leggendolo arricchisce il proprio patrimonio quindi un esperto di fisica nucleare leggendolo leggendo un articolo di fisica nucleare deve imparare qualcosa di nuovo anche se un esperto che ha letto tutto lo scibile umano in fisica nucleare quell'articolo deve contenere qualcosa di nuovo che non è mai stato fatto e quindi una persona estremamente esperta che mettiamo anche se impossibile abbia letto tutto lo scibile umano deve comunque imparare qualcosa di nuovo e questo è il requisito numero uno questo qualcosa di nuovo deve essere riflettere lo stato dell'arte deve riflettere quello che noi sappiamo a proposito del nucleo e arricchirlo e deve deve seguire le sue premesse quindi non essere fallace nella determinazione una volta che questo è verificato il referee anche pone un occhio di riguardo nei confronti del tipo di rivista se uno sta facendo il referee per nature guarderà non solo che l'articolo ha queste caratteristiche di scientifici scientificità ma anche controllerà che il risultato dell'articolo arricchisca la concezione scientifica non solo degli specialisti della materia ma dell'intera platea che legge nature quindi tutti gli scienziati più o meno ovviamente e quindi ne fa una valutazione anche di impatto se questo articolo avrà un grosso impatto e molti scienziati ne beneficeranno allora merita di stare su questa rivista altrimenti è scientifico pone qualcosa di nuovo ma non è di impatto sufficiente quindi merita magari un'altra rivista che è più specialistica più focalizzata quindi gli arbitri i referi decidono questo quanto una pubblicazione scientifica è scientifica e quanto è meritevole l'outlet assieme all'editore l'editore poi riceve il report le disamine dei referi e valuta criticamente ok questo referi fa notare che in questo punto dell'articolo non è molto chiaro le premesse le conclusioni l'altro referi fa notare che questo modello non è al 100% applicabile a questo caso o almeno non è banalmente applicabile a questo caso e la cosa andrebbe verificata e si può verificare facendo questo altro esperimento quest'altra quest'altro calcolo quindi in questo caso facciamo una verifica che il metodo utilizzato funzioni e funzioni in questo specifico caso e quindi che le conclusioni reggano il test della della falsificazione un qualche tipo di test di falsificazione quindi poi si reinvia le conclusioni dei referi all'autore nel caso in cui i referi considerino la pubblicazione meritevole di una possibile pubblicazione in futuro e richiedano questa revisione che concerne l'esplicitare in modo più chiaro alcune parti dell'articolo oppure rivedere alcuni esperimenti rifare qualche qualche calcolo e una volta che questo viene fatto l'articolo potrebbe valer la pena essere pubblicato allora si chiede all'autore si 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 rinvia la design indietro e si chiede all'autore di fare queste modifiche una volta che queste modifiche vengono fatte si rimanda all'editore l'editore lo rimanda di nuovo ai referi e i referi valutano di nuovo e così via finché non si soddisfano tutte queste tre parti i referi l'editore e l'autore quando tutte queste tre parti sono soddisfatte del risultato concordano sulla scientificità di questo risultato allora l'articolo può comparire sulla rivista di interesse questo processo come vedete è comunitario non è qualcosa di completamento oggettivo ovviamente tutti gli scienziati cercano di evitare bias considerazioni di ordine personale e non scientifico e quindi di dare il loro contributo e il loro giudizio più oggettivamente possibile e che faccia il bene della scienza tuttavia sono esseri umani in quanto esseri umani sono fallaci possono non aver letto tutte le considerazioni che l'autore ritiene fondamentali per valutare questo articolo capita anzi abbastanza spesso questa è una delle cose su cui casca il processo più spesso cioè che l'autore ritenga il referi debba avere delle certe competenze il referi non le ha cerca di compensare leggendo quello che può a partire dalla bibliografia ma magari non ci riesce perché queste competenze sono molto difficili da ottenere richiedono tempo lungo tutto questo processo è gratuito e quindi lo scopo il l'ambito del referi è piuttosto limitato non può spendere un anno intero da inizio alla fine tutto il giorno tutti i giorni cercando di ripetere l'articolo quindi ci sono dei limiti pratici alla cosa e che si scontrano con questo processo quindi un articolo può essere perfetto bellissimo scientifico ma i referi non sono d'accordo non per colpa dell'autore perché l'autore ha fatto il meglio che si poteva l'articolo è fantastico ma il referi non non lo ritiene tale perché è possibile che i manchi della parte di background è possibile che non sia d'accordo con le conclusioni a volte si cerca di in teoria si deve cercare di essere più oggettivi possibili senza imporre la propria visione all'articolo che si sta valutando però questo è un po inevitabile se si ritiene non si non si è d'accordo con l'articolo l'autore ha una gran con le premesse ad esempio l'autore farà una gran fatica a convincere il referi che non è d'accordo con le premesse che tutto l'articolo merita di essere pubblicato in questa fatica non ha nulla a che vedere con considerazione di tipo oggettivo quanto alla soggettiva opinione del del referi quindi in tutto questo la pubblicazione la singola pubblicazione ha un valore che è opinabile in che senso nel senso che questo è un processo serio non è un processo abbozzato non è un processo semplice è un processo che richiede tanto sforzo da parte di tante persone tuttavia è un processo fallibile quindi una singola pubblicazione non è irrilevante non conta qualcosa e a volte conta tanto però non è perfetta non è affidabile al cento per cento a un certo margine di affidabilità a un certo margine di serietà che sarà proporzionale alla serietà della rivista dell'editore e dei referi a cui l'articolo è stato sottoposto e su cui l'articolo viene pubblicato ma non è una pietra tombale anzi l'articolo è l'inizio di un processo dialettico di una dialettica fra autori quindi gli auto la comunità scientifica leggerà l'articolo specialistica o meno specialistica seconda valuterà ogni persona che leggerà l'articolo valuterà l'importanza di questo articolo come questo articolo impatta sul proprio lavoro sulla propria considerazione di un campo e ne trarrà delle conclusioni se questo articolo è molto importante per la considerazione all'interno di un campo allora le l'impatto può essere enorme anche di una singola pubblicazione caso contrario se l'articolo non riesce a convincere una grande quantità di scienziati questo sarà più o meno rilevante e come si può valutare in prima approssimazione l'impatto di una pubblicazione in base a quanto viene citata in lavori successivi come io ho detto quando si stila l'articolo bisogna riferire a tutte le le note bibliografiche le le sorgenti che hanno permesso questo articolo che rendono la comprensione di questo articolo possibile e se il mio lavoro viene impattato enormemente da una pubblicazione emergerà a seguito di quella pubblicazione magari oppure comunque verrà influenzato da quella pubblicazione allora nella mia spiegazione del mio lavoro io dovrò includere quella pubblicazione ho fatto questo e non quest'altro perché questa pubblicazione dice che quest'altro non si fa e e a questo punto però io la devo riferire in bibliografia così che chiunque lo legga di che a quest'altro non si fa non lo sapevo vediamo perché vanno a cercare la biblioteca la nota bibliografica scoprono che c'è questo articolo e dice e seguono l'articolo e leggono l'articolo anche loro si convinceranno del fatto che quest'altro non si può fare e a questo punto anche questi questi nuovi individui citeranno quest'altro nel caso in cui avevano intenzione di farlo citeranno questo articolo nel caso in cui avevano intenzione di fare questa cosa che l'articolo non non dice di non fare quindi questo è un aspetto molto importante il numero di citazioni a questo punto in un certo lasso di tempo si accumulerà un certo numero di citazioni se l'impatto è molto grande il numero di citazioni sarà proporzionale a tal impatto al contrario un lavoro irrilevante non avrà pubblicazioni la pubblicazione soltanto dell'autore stesso o dei suoi amici quindi qualcosa di fondamentalmente rilevante questo è un modo certo non bisogna confrontare pere e banane ogni ambito ha le sue tendenze i suoi modi di riferire alla bibliografia quindi ci sono ambiti più generosi ci sono ambiti che riferiscono solo una bibliografia essenziale ci sono ambiti che pubblicano molti articoli l'anno e ambiti che pubblicano pochissimi articoli in un'intera carriera e quindi non possono avere lo stesso numero di citazioni semplicemente perché gli articoli che ci sono in giro e quanti articoli cita un singolo articolo sono molto diversi da ambito a ambito però all'interno dello stesso ambito c'è una certa qual modo omogeneità anche se di nuovo c'è tutto questo processo è soggettivo fallibile e che non voglio parlare di situazioni patologiche solo parlare di quello che è una situazione aggettiva quindi ultimo disclaimer non prendete quello che dico a proposito di situazioni specifiche almeno non direttamente cercate di applicarlo con un po di sali in zucca ha un valore che è opinabile scusate